Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Solidarità ve le spiegate con La Regata per la Vita, l'iniziativa benefica volta alla raccolta di fondi a sostegno dell'oncologia marchigiana e delle associazioni di pazienti che operano sul territorio. L'evento sportivo solidale è stato organizzato in collaborazione con la Clinica Oncologica degli Ospedali Riuniti di Ancona, l'Università Politecnica delle Marche, Marina Dorica di Ancona, Club Nautico di Senigallia e l'armatore Alberto Rossi. 31 barche a vela per la quarta edizione più dello scorso anno, un appuntamento che ha consentito l'incontro di sportivi, cittadini e associazioni di volontariato della rete Marcangola e le dragonesse unite dal percorso oncologico di cancro al seno vissuto sulla propria pelle. Sull'evento, presentato da Daniela Gurini, questo è il bilancio della direttrice della Clinica Oncologica dell'Università Politecnica delle Marche, la dottoressa Rossana Berardi. Ci piace tantissimo ripensare a questa regata, una regata per la vita, ma una regata dal grande cuore e dalla grande generosità. Quest'anno più che mai c'è stata una congiuntura favorevole di tante energie che sono state spese, sicuramente da parte di chi ha partecipato, ma soprattutto di tanti organizzatori, sostenitori, supporter e associazioni e pazienti a cui va poi tutto quello che noi cerchiamo di fare nel nostro quotidiano e tutti i nostri gesti di solidarietà. Una vittoria di tutti, conquistata grazie alla passione per lo sport e all'impegno nella solidarietà. Hanno vinto le barche più veloci, più performanti, comunque sono andate tutti bene, e anche le barche che prettamente non fanno regata ad alto livello. Ha vinto Interzeptor, Far 40 con vele di prua importanti. Comunque una regata strepitosa l'ha fatta al Far 30 Andestanken di Daniele Fornari, fatto un secondo strepitoso a pochi minuti dal battistrada. E poi a seguire comunque tutte le imbarcazioni che hanno fatto una regata veloce.